Psss pss pss Ciao Hola amigos Siamo tornati con un video molto pasquoso Pasquale, no pasquoso mi piace di più Pasquoso, pasquoso Però prima di iniziare dobbiamo Cosa dobbiamo fare italiana? Salutare una persona Dobbiamo salutare Sharingan Ok, se si dice così, se non si dice così Ti chiediamo scusa Ciao Ciao Beh, allora iniziamo Da oggi iniziamo a parlare una nuova lingua Nei video Allora, abbiamo fatto dei sondaggi su Instagram Innanzitutto ringraziamo chi ci ha risposto Questi due sondaggi Ok E vi ricordiamo Sono stato ancora scritto al nostro profilo Instagram Di iscrivervi in modo da poter partecipare Di seguirci diciamo Sì scusami Di seguirci Vado poter partecipare a nostri video Ehm Au, mannaggia Vabbè Il sondaggio era Tra L'uovo di Pasqua Mario Kart Kinder Sì O Pokémon Ha vinto con il 63% Mario Kart Contro il 37% di Pokémon Per cui Abbiamo Abbiamo Mario Kart Uiii Odissimo Mario Poi Per me c'era Lo dico io per te Prego Mentre per Tatiana c'era Entrambi prodotti da Balocco Tai Oppure Dragon Trainer E che ha vinto Ha vinto Dragon Trainer Con il 71% Contro il 29% di Tai Però Adesso abbiamo preso No questa è qui Perciò abbiamo Dragon Trainer Che è bellissimo Fatto benissimo Multiplica La carta Però ci piacevano anche gli altri due Che vi avevano proposto Perciò se volete Tante tante cose che ci piacevano È stato difficile da selezionarne due Abbiamo selezionato due Per rendere la cosa un po' più semplice Per voi Per noi Anche per Ehm Niente Dici tu? Dici tu Eh non lo so Ha iniziato tu Inizio E niente Fateci sapere se volete Magari anche il video Delle uova meno scelte Ah di quelle che hanno perso il sondaggio Ok Diciamo Sì Ok Iniziamo Iniziamo a fare l'unboxing Inizio io Inizio io con l'uovo Kinder C'è il cioccolato In ogni uovo c'è Mario Kart Ma poi Mi sono piaciuto E io mi sono innamorato Di questa domanda Se vi interessa Così Marchetta Non mi pagano Però È delizio Cioè Marchetta gratuita No mi piace il sacco Che è la camomilla De Le trigomini in realtà Però no C'è La camomilla Non si impiranno niente Perché Non mi ha bacchato la carta Ok Adesso puoi parlare Che salvo Mi fanno vedere Lo sto aprendo E c'è dentro Un uovo di cioccolato Wow L'uovo è da 150 grammi Se vuoi L'uovo è da 150 grammi E perciò Diciamo Più piccolino Rispetto a quello che vedrete L'opoli Tatiana Che è da 240 grammi E il prezzo È abbastanza simile Sì Il prezzo è simile Però ovviamente Uno fa che è un po' più il marchio L'altro paghi Anche il cioccolato balocco Non deve stimare Insomma Speriamo Il Kinder lo conosciamo un po' Sì ma fate di farlo Vedere in qualche modo Che l'uovo è Eeeh Perché Ti sposto la roda Prendi la telecamera Se no mi si scioglie l'uovo in mano Distrugge tutto Tatiana Ma va bene così Aspetta che non ho avuto così Ok Questo uovo non è al massimo della forma Wow È rancione Qui è stata la sorpresa figa Come nel verso di Sì Cioè se non è figa Ti sei sorpreso Allora Io puntavo Io puntavo o su Yoshi Ho puntato che O su o su altri Io amo Yoshi Dei personaggi di Mario Lo metto giusto Mi ammazzo adesso Ma sì è uguale L'importante è che ci vedo E beh sto montando la sorpresa Allora potrei trovare Appunto Mario Luigi Yoshi O Todd Io speravo trovo Yoshi Perché è il mio preferito Eh anche me Yoshi e Mario Insomma Puntavo su quelli Ma va bene così L'ho trovato Todd Lo metterò vicino alla mia Switch Carina Aspetta che ce la Penso ci sia il fuoco manuale Si vede? Sì Guardate È però molto carina Sì no Come dettagliata È molto dettagliata bene Ovviamente È stata una bella idea Sì Adesso Cerco di rimettere Vi al fuoco noi due Ok Più o meno Poi ovviamente Se lo provo Assaggio del cioccolato Non perché voglio Pregare il cioccolato a Matteo No Io Il cioccolato no Fa male Ma è buono Tatiana non piace proprio No Buonissimo ragazzi È un po' moligio Perché si è andati A prendere al supermercato E si è venuti subito a casa È molto molto buono Anche se non lo mutate per te Ok Basta Vado anche a me Ok Aspettate che porto via il mio uomo Se Tatiana mi permette di portarlo via Eccoci Adesso tocca a Tatiana Ah Vabbè Qui c'è C'è questo qui che da piccolo Usavo sempre tipo coroncina Che non ha senso però Vabbè Carino Anche questo Ah Non mi aveva detto il prezzo I prezzi Non lo so Solitamente c'è attaccato al cartellino Ma Mi sembra che Allora Deve essere 7 euro E Quasi 8 euro Ebbè No Il mio 7 80 E 89 Mentre quello di Tatiana 7 e 69 Anche se è più grande Costa di meno Però Vediamo la sorpresa Sì 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 Io spero Se è una cagata Ci rimango veramente Veramente male Ve lo spero Matteo ha già fatto la macchina Non mi si giù E rimasto su Vabbè 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 Hai capito che vuole di riuscire Vabbè Rimasto su giù sotto Poi Mi ha sparito tutto Ento Adelman Il motore è dato Vabbè Voglio gli airbag Tranquilli Vabbè Dai Apriamo quello di Tatiana Ma dai Cioè Basta Basta tenerlo così Si stacca Dovrò metterci la colla Per tenerli attaccati insieme Allora Innanzitutto Guarda che bello C'è il Il packaging Del pezzo di cartone Come si chiama Vabbè Bellissimo Il packaging Il mio è un pochino più sciogliato Sì È molto più curato Il tuo Anche i colori Tutto qua Ci sono anche tutti Dei ragazzi sotto Sono tutti Vabbè Kinder cerca Senta di mantenere Diciamo Una sorta di Design Sempre simile Sì Ho fatto il copro Vabbè Alcune volte Sarebbe carino Dobbiamo anche vedere Packaging Più carini Questo è bellissimo Sì Esatto Ah Ci sono tutti Dino Cioè Guarda Sì No è bello È bellissimo Dinosauri Tutti Vedi Sì 0 DC Che c'è Che apri Ci sono le sirene Dentro Che vuole Spero sia buono Sì In teoria Non dobbiamo Sirene Ora Sirene così In modo che Non faccio andare Niente in giro È il mio Evidentemente più grande Del suo Wow Ho paura Cosa c'è? È una cosa brutta È una cosa brutta Cos'è? Cos'è? Che sorpresa Fantastica Non so cosa sia È un campanellino Penso sia Esatto Che io Apriamo È anche sigillato abbastanza Apri Proviamo il cioccolato Ma perché doppio Doppio sigillo? Che senso ha? Allora Uno Questo non si toglie Depende da qualcosa Del puntito Troppo l'altro Finito Non fa schifo Però Non è che forse Di buoni Di marche Di sottomarche Forse Ok Wow Tatiana Se vai in bicicletta Quest'estate Va bene Ci sono anche Due vitine incorporate Per attaccarlo alla vostra vici Fa sentire il suono che fa Vedela non ci vede bene Ah aspetta che metto a fuoco Bello eh Vai vediamo se suona Ma non suona niente Aspetta Non devi toccare questo Non ucciderti però Aspetta è difficile Beh sono abbastanza delusa Il cioccolato com'è che non l'ho assaggiato Non è male però sono più buoni altri che sono appunto sottomarche e costano di meno No Raga ma è la tristezza sta cosa Beh Ma cos'è C'è nel capodino a caso con un adesivo appiccicato sopra Orribile Vabbè Spiace Io peperisco il mio regalo Il mio Il mio Il mio Il mio Il mio E grazie Se volete rincurare Tatiana Diteci se appunto volete vedere il video Come direbbero i jump Fully dark side Di questo sondaggio Perciò un salutone Un bacione Un bacione Scrivi se non sei ancora iscritto E ciao Seguici su Instagram Ciao A passo meglio Ah Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua Il buono è il tuo però Ok Ciao